È crashato tutto, gli investimenti, i mercati, le cripto, quanto tempo era che io lo dicevo, ho parlato in tantissime delle mie dirette e delle mie stories su Instagram. Quindi stiamo parlando di un mercato con una volatilità altissima, con delle fluttuazioni enormi, dove devi essere veramente bilanciato. Quindi la mia filosofia è prima costruisci le tue competenze altamente monetizzabili, puoi vendire sul mercato, crea un'entrata stabile e ricorrente ogni mese da un business liquido, ok? Quindi o vendi le tue competenze come social media manager, o vendi le tue competenze come closer e guadagni chiudendo vendite, oppure lanci una tua attività, ma devi avere un qualcosa che ti genere entrate liquide, cioè cash diciamo, soldi, ogni singolo mese. Tante volte mi è stato chiesto in che cosa bisogna investire. Io vi dico questo ragazzi, il migliore investimento è su voi stessi, sulle vostre competenze per acquisire capacità altamente monetizzabili oggi nella nuova era digitale, ma soprattutto competenze in grado di produrti denaro liquido. Il cash è quello che regna soprattutto in periodi difficili come questo, quando i mercati vanno giù alla fine della storia, avere capacità che ti producono denaro contante, cioè persone che ti pagano cash per le tue abilità, per i tuoi servizi, per i tuoi prodotti, è quello che fa la differenza in un periodo difficile come questo. Per chi fosse interessato ad approfondire il concetto delle professioni digitali, ho lasciato qui in descrizione il link alla mia lezione gratuita, ti assicuro che ne vale la pena vederla. Un abbraccio e come sempre all in.